Questo è un video tutorial per far vedere come si compila la domanda per partecipare al concorso straordinario per il ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e posto di sostegno. Innanzitutto ci sono dei link come vedete qui per pagare il contributo di segreteria per partecipare al concorso. Si può partecipare a una sola procedura concorsuale e con Pagli in rete si pagheranno 50 euro per ogni procedura concorsuale oppure per tre procedure concorsuali o per due procedure concorsuali. Per una procedura concorsuale per esempio la classe di concorso o di primo o di secondo grado per cui si è titolo ad accedere. Per tre procedure concorsuali la classe di concorso per cui si è titolo ad accedere o di primo o di secondo grado e i posti di sostegno solo se si ha il titolo di specializzazione per il primo grado della secondaria o per il secondo grado della secondaria. Le due procedure concorsuali potrebbero essere per esempio una classe di concorso per la secondaria di primo o secondo grado per cui si ha il titolo di accesso e per esempio o il sostegno di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado se si ha la specializzazione. Si rammenta che il periodo di presentazione della domanda andava dall'11 luglio 2020 fino al 10 agosto 2020. Una volta pagata il contributo di segreteria il docente può entrare a vai alla domanda. Cliccando su vai alla domanda si passerà all'informativa. L'informativa che non va compilata, va solo letta. Facendo poi avanti si va su scegli la regione. La regione può essere scelta utilizzando questa mappa interattiva. Si clicca sulla Calabria e si avrà la Calabria, si clicca sulla Sicilia e si avrà la Sicilia. Facciamolo per esempio sulla Sicilia. Scegliamo la Sicilia come regione e facciamo avanti. Facendo avanti entriamo nei dati personali e facendo ancora avanti andiamo sulla compilazione delle sezioni. Per esempio facciamo l'esempio della compilazione del titolo di accesso. Facciamo azioni disponibili e aggiungiamo. Scegliamo la classe di concorso per esempio arte immagine della scuola secondaria di primo grado. Facciamo aggiungi e qui dobbiamo inserire il titolo per cui si può svolgere questa classe di concorso. Immaginiamo di avere un'abilitazione specifica. Dunque di avere l'abilitazione, di cliccare su abilitazione, titolo di abilitazione di insegnamento. Immaginiamo di aver svolto per esempio un concorso ordinario antecedente al 2012. Si metterà la votazione del concorso, per esempio 77 su 80, si avrà la conversione, si inserirà la data di conseguimento di questa abilitazione, per esempio si potrebbe pensare gli anni 90 o anche il 2001. Il 12 giugno 2001. Il luogo del conseguimento USR, per esempio calabria. A questo punto il titolo è stato inserito, si fa salva e compare, vedete, la spunta verde perché il titolo è stato fatto. Ebbene, speriamo che questo video tutorial sia stato utile per i nostri lettori. Vi consigliamo di seguire ancora questo canale YouTube o il www.tecnica.it perché faremo altri video dove andremo a compilare le altre sezioni per fare vedere come si compila interamente la domanda di partecipazione al concorso di scuola secondaria di primo e secondo grado per il ruolo. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.